Amici 2023, retroscena sull'eliminato dell'8 aprile, ballottaggio avrebbe perso Alessio. Chi sarà l'eliminato dalla quarta puntata del serale di Amici 2023 in programma sabato 8 aprile su Canale 5? La registrazione ufficiale del talent show è avvenuta questo giovedì pomeriggio e... Anche questa volta, c'è stato spazio per una sola eliminazione definitiva dalla gara. Una puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena, durante la quale non mancheranno le polemiche e anche le accese discussioni in studio tra i professor. Tra i concorrenti che, al termine della gara, sono finiti a rischio eliminazione figura anche il nome del ballerino Alessio. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata del serale di Amici 2023 in programma questo sabato 8 aprile su Canale 5. Rivelano che c'è stato spazio per una sola eliminazione definitiva dalla gara. Contrariamente a quanto è accaduto nel corso delle prime due puntate, questa volta è stato uno solo un allievo a dover abbandonare il cast dello show di Maria De Filippi. Al termine delle tre ma anche i concorrenti finiti a rischio sono stati, Angelina, Mattia e Alessio. La prima ad essere salvata, come prevede il regolamento, è stata la cantante Angelina Mango, che potrà così proseguire il percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi. A seguire, quindi, c'è stato il ballottaggio finale tra Mattia e Alessio, uno dei due dovrà dire addio per sempre al cast del talent show di Canale 5 ma... Il verdetto non è stato svelato nel corso della registrazione bensì sarebbe stato rivelato ai concorrenti solo all'entro in casetta. Un'eliminazione che, ovviamente, non passerà inosservata tra i fan curiosi di scoprire chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare definitivamente i cast del serale. In queste ore, a svelare di retroscena sul nome dell'eliminato dal serale di Amici 22 di sabato 8 aprile, è stato l'esperto di gossip a Medeo Venza. Già la scorsa settimana, Venza aveva anticipato che il concorrente eliminato dalla terza puntata era stato il ballerino Samwe. Anche questa volta, si è lasciato andare ad un retroscena sul concorrente fatto fuori dal cast, che non è passato inosservato. Stando a quanto riportato sui social dall'esperto di gossip, il nuovo concorrente eliminato dal serale di Amici 22 sarebbe stato il ballerino Alessio. Insomma, il condizionale è d'obbligo, ma Mattia Zenzola del team guidato da Raimondo Todaro sarebbe riuscito ad avere la meglio e a conquistare così l'accesso alla prossima puntata del serale. Sous-titrage Société Radio-Canada